4 via 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 200 destra 2 in destra 3 200 destra 2 in destra 3 in sinistra 4 100 largo tornante destro in sinistra 4 100 destra 4 in sinistra 4 200 tornate sinistro destra 3 lunga in destra 4 in sinistra 3 lunga giriamo di là via via giù 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 sinistra 3 lunga in destra 3 lunga in destra 3 lunga via via dentro 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 giù giù pieno 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 100 tornante destro in sinistra 2 300 chicane 50 50 destra 2 intornante sinistro destra 4 100 destra 3 intornante destro destra 3 intornante destro sinistro sinistra 2 sinistra 2 sinistra 2 in destra 4 100 sinistra 4 200 chicane 100 tornante sinistro tornante destro sinistro non va più di nuovo ok 200 largo destra 2 in destra 3 in sinistra 4 in sinistra 4 tornante destro in sinistra 4 in sinistra 4 scusami 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 tornante sinistro scusami 200 tornante sinistro fa la correre di terza, fa la correre di terza, scusate, facciamo più metri destra prelunga giù giù adesso, tieni la puntata, buona puntata apri, apri tutto, giù tutto 100, tornando a destra sinistra 2 300 chicane 50 destra 2 tornante sinistro, in destra 4 100, destra 3 in tornante destro in sinistra 2 una forte destra 4 in sinistra 4 via via giù 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 giù, schissà 200 chicane via via giù 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 tornante a destra, in tornante a sinistra piccola forte piccola forte tira tira forte buona via 100 largo destra 2 in destra 3 in sinistra 4 in sinistra 4 in sinistra 4 via 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 giù adesso destra 4 in sinistra 4 via 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 dentro 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 correre via 100 torrente a sinistro destra 3 lunga in destra 4 in sinistra 3 lunga vanno a correre di terza giù adesso una marcia via qui veniva seconda poi sparare destra 3 lunga giù una puntata di acceleratore ora farla tirare adesso apri apri torrente a destra in sinistra 2 300 chicane figa qua non è 2 la 4 50 destra 2 tornate a sinistro in destra 4 100 destra 3 intornate a destra 100 destra 3 intornate a destra più forte adesso è in corsia box in corsia box di là ok stop ora ora